Lavoriamo, crepiamo di fare tutti i piedi, ti guadagno. Guarda il bacinetto, che questi vogliamo bloccarci. Amici, aspettate, dove andate? Aspettate. Ma va fuori il problema, le predicature. Amici, ma perché fate così? Ma quanti vi mettete contro uno? Voi ad inviare. Aspettate. Aspettate. Desde il Instituto Politecnico Nacional, Canal 11, il canal cultural della società. Aspettate. 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 A presto. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.